Salve ragazzi, la telenovela Guardiola continua e io voglio fare un appello a tutti i tifosi gioventini e allora chiariamo, se Guardiola dovesse effettivamente essere il prossimo allenatore della Juve non ci sarebbe nessuna persona al mondo più contenta di me, sarebbe l'apoteosi, il mio idolo, il mio idolo incontrastato verrebbe ad allenare la Juve e me ne fotterei del discorso morale, moralistico, del super ingaggio come me ne son fottuto di Cristiano Ronaldo, calcio un business, muovendo questi soldi si muovono tante persone dietro e ci mangiano tutti, insomma mangia lui, mangerebbero tanti altri, non facciamo discorsi morali, insomma sarei felicissimo, ora però non so che cosa ci sia di effettivo, di reale effettivo riguardo questa vicenda, nel senso io non so se sia una mossa per fare lievitare le azioni, queste voci che escono ad hoc quando Sky e i quotidiani sportivi più famosi insistono sul nome di Sarri, la borsa oppure se c'è qualche progetto retro magari si vuole destabilizzare un po' l'ambiente perché io vedo sui social, su internet c'è una sommossa pazzesca nel senso che se non viene Guardiola non si accetta nessuno, si è creata una tale aspettativa su questo allenatore che lo danno quasi per certo, sui social, si è creata una tale aspettativa che nel momento in cui saltasse questa cosa, vera o non vera, se saltasse sarà tremendo per chiunque sarà scelto ad allenare la Juve, rischia veramente di non avere l'appoggio manco del 10-20% dei tifosi gioventini perché già vedo sui social che mormone, che schifo Sarri, che schifo quello, che schifo quell'altro, che schifo Zitan, ehi, ehi, ragazzi se viene Guardiola meglio per tutti, ci mancherebbe, però così non si può destabilizzare l'ambiente e se non venisse, già vedo i commenti, i commentini, che allenatore è quello, ehi, chiariamo sono d'accordissimo sul fatto che non si debba sostituire il beccamorto con Inzaghi, Mijanovic e qui siamo d'accordo tutti, ma tra i top Guardiola, Klopp, eccetera, e Simone Inzaghi, Mijanovic, eccetera, eccetera in mezzo c'è tanta roba, c'è tanta roba, tanti allenatori incapaci, in gamba, di ottimo livello, senza essere il top mondiale, con un risparmio incredibile sullo stipendio Sarri è uno di questi, sì, il troglodita, il cafone, fa un gioco spettacolare, sì, dobbiamo dirlo, senza essere scandalizzati se sarà lui ad allenare la Juve, qualche remora c'è, c'è, c'è per l'amor di Dio, ci sono, sul fatto che non abbia il carisma per farsi seguire nelle sue idee rivoluzionari dai fuoriclasse, che magari vedono appunto il troglodita e perché dobbiamo fare quello che dice, insomma, non è facile farsi seguire dai fuoriclasse, ci vuole anche carattere oltre alle idee, un'altra remora è sul fatto che lui magari è fissato con certi giocatori che io considero ex giocatori come Iguain e soprattutto con Rugani, Rugani che io salvo solamente per la fidanzata, che è uno spettacolo immenso, Michela Calcagno, ma Rugani è un giocatoretto, un difensore di serie B, sì, veramente, e non vorrei che Sarri, in vista della chiusura carriera di Chiellini, che ha annunciato che farà l'ultimo anno forse due al massimo, secondo me ne farà due perché lui vuole arrivare a dieci scudetti, il teso, comunque, Chiellini che gioca era mai meno della metà delle partite in un anno, eh sì, Chiellini va sostituito bene, Sarri tu non lo puoi sostituire con Rugani, non devi rompere il cazzo, Sarri, eh? Chiellini ci vuole una roccia, un grandissimo difensore, non so, il sogno sarebbe Delict oppure Coulibaly, ma questi non te li daranno mai, e allora realisticamente a buon prezzo puoi trovare un Romagnoli o un Manolas con la clausola di rescissione molto bassa, poi vedremo quello che succederà, però ognuno ha le sue piccole, le sue piccole magagne, però nel caso fosse Sarri il prescelto, ragazzi, appello a tutti gli Juventini, dobbiamo essere compatti, compatti, l'ambiente deve essere compatto, non perché non è arrivato Guardiola, tutti, oh che schifo questo, che schifo questa, si deve remare tutti dalla stessa parte, non accetto contestazioni, poi se verrà il Maestro Guardiola saremo tutti felici e ci sbronzeremo come scimmie, questo è poco ma sicuro, però ci sono delle buone alternative, ragazzi, intesi, mi raccomando, remiamo tutti dalla stessa parte, non accetto più le contestazioni, ancora prima che arrivi un allenatore già siamo in contestazione, andiamo calmi, mi raccomando ragazzi, mi raccomando, l'ambiente è compatto, e poi la prossima settimana aspettiamo notizie, se è vero che ci sarà il famoso annuncio e poi la presentazione, ci sono questi rumors su Guardiola, ragazzi, attendiamo, io non so più che dire, attendiamo la prossima settimana, secondo me è quella decisiva, decisiva per sapere finalmente ragazzi, fino alla fine, forza Juve! Grazie per la visione!